Anche a Sintino entrerà in vigore la tassa di soggiorno, l'ha deciso quest'oggi il Consiglio Comunale. Entro gennaio, quando sarà presentato il bilancio di previsione, la Giunta dovrà individuare la misura dell'imposta, distinta per tutte le tipologie di strutture ricettive. La tassa sarà applicata dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno. Saranno soggetti all'imposta gli ospiti di alberghi, B&B, case vacanze o case non adibite ad abitazione principale e affittate a fini turistici, camping e aree di sosta per caravan e autocaravan. L'istituzione dell'imposta di soggiorno ci consentirà di migliorare i servizi turistici, i proventi serviranno per quello, afferma il Sindaco Antonio Diana. Questo strumento favorirà l'emersione degli affitti sommersi, l'imposta sarà determinata per persona e per numero di pernottamenti. Si articolerà in maniera differenziata secondo la tipologia delle strutture utilizzate dal turista. Il Sindaco Diana ha inteso precisare che la tassa non colpisce il pensionato o il piccolo proprietario, ma le organizzazioni che propongono al mercato interistabili, usufruendo dei servizi offerti dal territorio e sfuggendo a ogni tipo di contributo. Aggiunge il Vice Sindaco Angelo Schiaffino, lo strumento potrebbe fornirci dati utili per una corretta imposizione dell'Atari. Il gestore potrà trattenere sino al 3% dell'imposta lorda riscossa direttamente a titolo di parziale rimborso delle spese gestionali connesse all'attività di riscossione e rendicontazione.